Sono stati cinque anni particolari, ha commentato in apertura della conferenza stampa di rendiconto del bilancio pre-covid della giunta regionale il presidente Luca Ceriscioli in vista della scadenza di mandato. Il programma di questi cinque anni di governo, ha commentato il governatore, è stato frutto del raggiungimento di diversi obiettivi prefissati dal programma elettorale del 2015. La maggior parte dei punti è stato realizzato nonostante le due emergenze caratterizzate dal sisma e dal covid. Tra i diversi punti in programma Ceriscioli ha evidenziato il tema del turismo e della riqualificazione strutturale istituendo anche un unico percorso creato con la cultura che ha permesso la realizzazione di grandi eventi tra cui Rossini e Raffaello investendo 25 milioni complessivi rispetto ai 4 milioni di euro di partenza del 2015. Sul turismo resta l'obiettivo di approvare un testo unico che possa regolare e visionare tutte le strutture ricettive. Il bilancio di fine mandato è risultato determinante per la riduzione del debito del 3%. Questo ha permesso una virtuosità di bilancio di 210 milioni di risorse aggiuntive di queste 42 milioni destinate per l'emergenza coronavirus. Altro fronte in cui la regione ha investito è stato quello sulla formazione mirata, rete scolastica, politiche attive del lavoro con il potenziamento dei centri per l'impiego, politiche passive dove è stato richiesto uno stanziamento di cassa integrazione ordinaria in deroga, poi sostegno al welfare familiare sostenendo i centri estivi e scuole paritarie e grandi investimenti sull'accademia aziendale riguardo i tirocini extracurriculari. Per il personale interno è stata fatta una riforma delle province che ha permesso il trasferimento di 1.785 dipendenti in giunta di cui 1.883 attualmente lavorano in smart working e 11 in telelavoro. La regione ha anche posto un'attenzione particolare sulla green economy, puntando sullo sviluppo sostenibile e efficientamento energetico i quali sono stati stanziati 2 milioni di euro per l'economia circolare. Per le imprese sono stati stanziati 50 milioni di euro che potranno essere messi a disposizione per il futuro della neo giunta che si insedierà. L'attenzione del rendiconto della giunta si è concentrata anche sui temi di violenza di genere in cui nelle Marche sono stati aperti 9 centri antiviolenza rispetto ai due iniziali. Il trasporto pubblico è stato poi un altro tema evidenziato. Sono stati rinnovati i parchi degli automezzi, acquistati 189 nuovi pullman e finanziati altri 219 a metano ecosostenibili. Altro tema è stato quello ambientale. L'assessore preposto si è soffermato come nelle province, la raccolta differenziata è oltre il 70%. Sono stati anche investiti fondi per i centri educativi e ambientali in un'ottica di politica ambientale fondata sul consenso. Grazie. Grazie.